Si è svolto a Tortoreto presso la Sala Consigliare del Comune l'incontro pubblico sulla delicata vertenza Celta S.P.A. organizzata alla presenza dei rappresentanti politici del territorio. La Celta S.P.A. che ricordiamo attualmente in pre-concordato fallimentare, è presente nel Comune di Tortoreto con uno stabilimento industriale e occupa 80 lavoratori che se non saranno trovate soluzioni alternative rischiano a breve di perdere il proprio posto di lavoro. Abbiamo voluto sensibilizzare tutta la politica locale e anche alcuni parlamentari per farci aprire le porte del Ministero dello Sviluppo Economico. Il nostro obiettivo è portare la vertenza Celta al Ministero per cercare di trovare una quale e soprattutto un acquirente che metta a riparo i posti di lavoro che si stanno perdendo a Tortoreto. C'è già qualche imprenditore che potrebbe essere interessato? Attualmente no. Da quello che ci dicono non c'è nessuno che abbia paventato l'idea di acquisire il sito di Tortoreto. O meglio, quello che ci è stato detto al tavolo di trattativa l'ultima volta, che poi noi abbiamo interrotto, la percezione che abbiamo avuto è che qualcuno ci fosse ma rinunciando al sito di Tortoreto. E noi questo non lo possiamo permettere assolutamente perché il sito di Tortoreto, ricordiamo, che è su un'area di crisi complessa, quindi abbiamo degli ammortizzatori sociali che permetterebbero di andare avanti. Soprattutto è un sito che il know-out che hanno i lavoratori in questo sito è molto alto, quindi disperdere questo know-out sarebbe proprio da scellerati farlo. Gli 80 lavoratori di Tortoreto tra l'altro adesso sono stati messi tutti in cassa integrazione a zero ore, quindi lo stabilimento è stato completamente fermato e questo non può che aumentare la preoccupazione che abbiamo per il futuro, per la situazione contingente ma anche per quelle che possono essere le prospettive che temiamo essere quelle poi del licenziamento. Un'avvertenza su cui stiamo lavorando da diversi mesi ormai, continuiamo la nostra lotta perché comunque non ci rassegneremo fino alla fine, crediamo, siamo convinti che sia un'azienda che debba essere salvata perché è una risorsa per il territorio ma anche per tutto il paese. Va a scatafascio una vita intera per persone che magari si ritrovano senza un reddito, con un mutuo da pagare, con dei figli da mandare a scuola e non ci sono più i soldi per fare tutto questo. Quindi ovviamente dalla politica ci aspettiamo qualcosa di concreto.